la squadra è partita diciamo dal mister in velocità ha sfruttato tantissimo il gioco palla a terra perché comunque la nostra squadra noi ogni volta diciamo che non merita questa posizione per il calcio che dimostra sul campo il mister ha caricato i ragazzi perché ormai purtroppo dobbiamo valutare la classifica e quella che è quindi era uno scontro salvezza diciamo però a livello tecnico tattico secondo me non c'è stata partita la nostra squadra è stata il doppio più veloce degli avversari abbiamo espresso un grandissimo calcio e soprattutto abbiamo fatto tantissimi di rimporta che mancavano da tempo tutte queste conclusioni peccato un po la sfortuna perché il risultato a essere molto più ampio secondo però comunque merito anche gli avversari sono riusciti a difendere benino diciamo comunque secondo me non c'è stata partita questa volta ma dire un avversario più comodo in questa lega non c'è una precisa squadra diciamo a noi ogni volta che scendiamo in campo giochiamo per vincere quindi chi dovesse capitare qualsiasi squadra è una finale abbiamo dimostrato che con le grandi abbiamo fatto buone partite ci hanno fatti i complimenti abbiamo perso anche l'andata con il progetteam e questo dimostra che la lega ogni partita ha una storia a sé quindi dire una diciamo una favorita per lo scontro ai play out è difficile ogni partita per noi ormai è una finale ci presenteremo ai play out con la bava alla bocca e daremo il cento per cento quello che chiede sempre il mister perfetto grazie a presia grazie